La nuova stagione teatrale del Curci, una rassegna di grande qualità ma che registra per la prima volta un'assenza pesante e la mancata partecipazione di compagnie teatrali del territorio. La denuncia arriva da Michela Di Vicarono e la doppia veste di attrice e consigliere comunale d'opposizione nell'occasione portavoce delle istanze provenienti dalla categoria degli artisti locali. L'amministrazione comunale spiega in conferenza stampa ha messo in piedi la nuova stagione teatrale senza pensare di coinvolgerci nell'organizzazione. Per la prima volta, pur avendo aperto alle eccellenze del territorio, della musica e della danza, manca per la prima volta un nome di una compagnia ministeriale, una compagnia FUS che sia di Barletta. A parte questo, l'idea sarebbe stata anche quella di aprire a tutte le altre compagnie professionali del territorio, ma abbiamo scoperto, anche questo con gioia, che ci sarà una sezione dedicata al teatro di commedia barlettana, comico barlettano che ha una tradizione antichissima e quindi merita di stare su quel palcoscenico finalmente, ma allora a maggior ragione ci chiediamo come mai non sia stato pensato ad uno spaccato nel quale fare coinvolgere anche le compagnie professionali, professionistiche di Barletta. L'amministrazione comunale ha affidato all'attore Fabio Troiano l'organizzazione della stagione di prosa. Un valido professionista, sottolinea la consigliere di Viccaro, ma scelto in maniera discrezionale, senza alcun bando pubblico. E sulla discrezionalità mi chiedo perché l'attore Fabio Troiano e non Emilio Solfrizzi, oppure che cos'ha Troiano di più o meglio di Michele Placido e di tanti altri nomi di professionisti. La verità è che andrebbe fatto un bando per individuare un direttore artistico e la verità è che anche la direzione artistica dovrebbe essere pluriennale, almeno triennale, per garantire al direttore di lavorare sul territorio. Finché sono stata presidente dell'associazione di categoria Settore Cultura e Spettacolo di Barletta, ho comunque sempre sentito il dolore del mancato confronto col direttore, che era qui, era ancora lui in nomina, e comunque non ci ha mai incontrati. C'era una popolazione di colleghi che lamentava delle cose e lui non ha mai nemmeno sentito il bisogno di incontrarci. Un direttore artistico avrebbe anche come compito quello di essere vicino alla comunità delle colleghe e dei colleghi. E questo a noi è mancato molto. Per il futuro, conclude la consigliere di Viccaro, sarebbe auspicabile una maggiore programmazione nell'organizzazione degli eventi culturali della città e il pieno coinvolgimento dei professionisti del territorio. Se tutto fosse programmato, tutto funzionerebbe meglio. Se si facesse appello a quel fatidico regolamento che grazie alle proteste che sono andate avanti fino a qualche mese fa è stato approvato dal commissario Alecci con i 18 emendamenti della categoria, quel regolamento che fa fede e regolarizza i contributi economici dati alla cultura e allo spettacolo metterebbe a tacere tutti questi ingranaggi che nel loro essere nebulosi creano il sospetto che ci sia discrezionalità. Grazie a tutti.